Andiamo a Colonnella adesso dove c'è stato un movimento franoso del terreno sottostante Piazza Palazzo che ha di fatto poi bloccato, lo vedete nelle immagini che ci hanno inviato, ha bloccato la strada di accesso al centro storico appunto isolato per ore, le foto ci giungono dal paese e mostrano chiaramente la situazione, anche il filmato la frana si è mossa questa mattina intorno alle 9.30 e anche ha portato con sé alcuni pezzi del muro che appunto cerca di sostenere il terreno lo smottamento ha interessato il versante nord dell'antico borgo di Colonnella, in particolare il terreno che è sottostante ad un edificio religioso che in passato aveva ospitato un asilo di infanzia, per fortuna non ci sono stati danni né alle persone né alle automobili in transito